Oggi 8 marzo, la giornata internazionale della donna. In questo giorno voglio celebrare noi donne che sappiamo essere femminili ma determinate, dolci e coraggiose, sognatrici e pratiche. Voglio commemorare tutte quelle donne che per mano di una persona malvagia non sono più con noi e ricordare che dobbiamo essere noi per prime ad amarci e rispettarci. Buon 8 marzo a tutte!